Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jampitech Siamo tornati oggi ragazzi con un nuovo punto io Perché questi punto io stanno iniziando a dominare E ne stanno sfornando probabilmente uno al giorno Va benissimo così, a noi ci sta bene perché ci facciamo un video e li mandiamo affanculo Se non sono epici come Slither Ma oggi ragazzi siamo su Piran.io Che sarebbe per piragna io Io sono un piragna, perfetto così Sostanzialmente è molto simile ad Agario Bambini, qua mangeremo bambini ragazzi Quindi se siete deboli di cuore non guardate questo video ma mangeremo dei bambini Sanno che sono comodamente struti sul loro salvagente ma noi li mangeremo E poi abbiamo svariati i power up e ovviamente dobbiamo mangiare gli altri piragna Cosa cazzo è questo 3? Ah perfetto, possiamo mettere il nostro personaggino preferito Your name, allora che nome possiamo assegnare a un piragna? Un piragna come si può chiamare? Riflettiamo Lo squartatore Anzi lo chiamerò semplicemente squartatore Non entra, o squartador È spagnolo Ok, facciamo play e andiamo a giocare con questo videogioco Che è sì all'inizio lagga, lagga de cristo Però poi, ok, questo è un power up Però come potete vedere ragazzi Oddio c'è body il 40 Oddio body il 40 Vattene affanculo Ok, come potete vedere abbiamo lì in alto Una barra con il boost che si attiva se non sbaglio Con il click del mouse Sì ok, abbiamo questo boost è molto figo Mangiamo questi bambini che è una cosa molto molto macabra Non so perché E poi abbiamo il power up che si attiva con barra speziatrice che dovrebbe Non so cosa fa questo coso Mi dà un boost di cristo Guardate che incredibile Ok, si sale di livello ragazzi È la prima volta che ci gioco Sto vedendo Ah, no, no, no Si sale di livello Ah Oddio, oddio Non ci credo raga che sono invisibile Ah, sono sott'acqua Che figo Cioè raga l'ho attivato proprio al momento giusto Perfetto Nella mappa in basso possiamo vedere dove sono gli altri bastardi Io adesso ci voglio stare a debita distanza Perché voglio fidarmi di bambini E qua Adesso ci fidiamo Proprio mangiamo E effettivamente in tutti i sensi Oh, guardate quanti bambini No ragazzi, questa cosa veramente è troppo macabra Perché poi lasciano anche la ciazza di sangue Ma mi chiedo chi cazzo ha inventato questo gioco Non so dove cazzo si guarda lo scorre Perché Dove cazzo è lo scorre E perché ogni volta che tra l'altro si rima Ah, in basso lo scorre Sono un ciecato di merda Perché ogni volta che saliamo di livello Ritorniamo piccoli Però abbiamo i punti Se non sbaglio triplicati Rispetto al nostro livello Cioè tipo Siamo a livello 2 Sono raddoppiati Sono a livello 3 Siamo triplicati Sono a livello 4 Sono quadruplicati E quello ragazzi Che cazzo è là sotto Nel dubbio Noi ce ne scappiamo tranquillamente Perché siamo a livello 3 E abbiamo Ma sono in classifica Squarta d'orre Livello 4 Ma di già Beh si Se li è in classifica In questi giochi Che sono poco conosciuti No, lì c'è un livello 4 Però non so Se possiamo Perché ti sei venuto a suicidare Per esempio Però non so se posso mangiare Quelli effettivamente più piccolini di me Ma con livello superiore Non lo so Intanto abbiamo questo fulmine Adesso ci stiamo fidando a merda Ha veramente un busto di merda Fa schifo Addio l'ho ucciso Non so come Ma l'ho ucciso Perfetto Molto bene Molto bene L'ho ucciso Che cazzo era quel coso Che cazzo Si vieni qua Vieni qua Vieni qua Sono sott'acqua Potrei sbucare dal nulla No, 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 no Questo forse mi può mangiare Just try Via, via, via Mamma mia Mamma mia Ragazzi che figo, oddio Ah sono piccolino di nuovo Attenzione, sono terzo E quello è violento e potrebbe mangiarmi Ma noi adesso mangiamo altre cose Perché questi bambini sono lì Non si muovono, ma che cazzo fanno nella loro vita Oh, 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 oh Vaffanculo, sono livello 4 Non ti devi azzardare a toccarmi, sono terzo Ragazzi, se veramente Cristo arrivo primo Io non so cosa faccio Ragazzi, forse quello è diventato trasparente Ragazzi, aspetta che forse sia infilato sott'acqua Perché è scomparso in un modo assai misterioso E non vorrei che mi inculasse alla fine Che tra l'altro è triste sto gioco Senza effetti sonori, senza audio Ho le cuffie messe a cazzo di cane come sempre Però ok, raddoppiamo i nostri punti Però se non sbaglio si sale molto più lentamente L'artena faculosi, mamma mia ragazzi Sono secondo, sono secondo Non ci sto credendo, sono secondo Ed ho il power up Del, non so che cazzo è quel coso 668 Oddio Ah, no Non sono morto Perché sono morto? Ubershocked Perché cazzo sono morto? Non ho capito perché sono morto Vabbè, non si sa perché siamo morti Cambiamo nome, mi chiamerò Anzi, mettiamo questa faccina che sembra tipo l'ape Maya E mi chiamerò ovviamente Maya Come l'ape Che credo si scriveva così Ape Maya Guardate quel bastardo Che è a 1366 Figlio di putt E tra l'altro non so nemmeno Se Ciao Prendiamo questo povero Non so nemmeno se ragazzi Se tipo io mangiandomi un altro Prendo effettivamente la sua massa Ma mi sa assolutamente No, lo ammazzo e basta Ah, vaffanculo Perché? Questa Ma che cazzo è? Ma vaffanculo Ma come sono morto Ok, riproviamo Riproviamo perché la cosa non mi sta piacendo Assolutamente C'è questo primo Sta fiddando sul mio cadavere Porca troia Non mi sta per niente bene Quindi adesso io mangerò Un bel po' di bambini E proverò adesso a mangiare Questo grosso Livellup Livello 2 Che poi si sale di livello A livello 1 Da livello 1 a livello 2 Ci metti veramente un cazzo E potresti andare Livellamente a fanculo Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? No! Che cosa cazzo è? Era un salvagente attorno a me? Oh, te ne devi andare a fanculo Primo di merda Ok, allora Adesso mi concentro Adesso mi concentro Non è difficile Giambitec Non è per niente difficile Devi solo mangiare i bambini Tutti mangiano i bambini al giorno d'oggi Chi vuoi che non lo faccia? No, adesso te ne va Ciao Ciao Dai, dai Vattene a fanculo No, no Zucchami il ca... Oh, non ti rompere i coglioni Ma vattene a fanculo Dai, dai Figa Ma cosa cazzo è questo citta peggio di Cristo? Ma come fa? Guardate cosa sto facendo? Com'è che mi insegue così? No, no Di nuovo quello no Ragazzi Che cazzo È successo Che sono livello 4? È morto il primo? È sono aumentato di livello? Ma non l'ho ammazzato io? Sto prendendo punti come... Non sono stato... Ma che cazzo è successo? Mangiamo tutto e raddoppio i miei punti Bambini venite a me Ogni bambino ha mangiato quanto cazzo di punti dà? 4 punti Perfetto Dai, dai Sì, sì Mangiamo 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 Livello 4 secondo Che poi non c'è però anche una barra Che ti fa capire quando effettivamente... No, di nuovo tu te ne devi andare a fanculo Quanto effettivamente stai salendo di livello? Ok, il mio obiettivo è salire in classi... Sono primo! Sono primo, vabbè Sono primo Ciao Adesso vaffanculo Adesso non me ne fotte più un cazzo Voglio andare a mangiare tutti Voglio andare a mangiare tutti Ragazzi, guardate quanto sono grosso Ma non c'è... Ciao No, questo mi frigge Mi frigge, zio Mi frigge Ok, ciao Ciao, ciao, ciao Guarda quanto sono grosso 901 Voglio arrivare a mille punti Voglio arrivare a mille punti Forse non c'è Si arriva a livello 4 e basta 933 punti sono primo E ho il laser Non mi piace Lo voglio cambiare Prima di ammazzare questo piccolino Che sì Boom Ragazzi Spiegatemi che cazzo è questo laser No, veramente perché fa schifo L'avete visto che ho sparato a quello, no? Perché è ritornato indietro sul mio cazzo di corpo? Che ero primo, porca troia Con 949 punti Vaffanculo, gioco Sei buggato Quindi ragazzi Per questo video su Pinion.ier Tutti scordatissimo che il video vi sia piaciuto Siamo arrivati primi Così Alla cazzo Senso motivo al primo video Alla prima partita lunga Che effettivamente ci faccio Se voleste altri video su questo gioco Fatemelo sapere Con tanti miei pollicioni in su Proviamo ad arrivare Almeno a 10.000 like Proviamoci ragazzi Forza so che ce la possiamo fare Detto questo ragazzi Da Jumpy Tech è tutto E ciao ciao Illuminati Crew Grazie a tutti Ciao 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 Quello Grazie a tutti